Consigliere, il referendum costituzionale d'Italia ha detto no, un commento a caldo innanzitutto nel giorno dopo. Il Presidente del Consiglio, nonché segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi, chiedeva un plebiscito agli italiani, il plebiscito c'è stato, ma di segno opposto rispetto alle speranze di Renzi. Colui che è entrato a Palazzo Chigi senza avere un voto e che se ne deve uscire sommerso da uno tsunami di voti a lui ostili. Gli italiani hanno risposto in maniera chiara, netta, forte rispetto ad una riforma sbagliata e pericolosa, però hanno anche risposto in maniera chiara, netta e forte rispetto ad un'azione di governo e rispetto a come Renzi aveva impostato la campagna referendaria su se stesso. Credo che uno dei motivi principali per cui così tanti italiani hanno detto no è che hanno colto, e lo hanno reputato non ammissibile, che in realtà il Presidente del Consiglio era più interessato ad utilizzare il referendum costituzionale e quindi le modifiche della Carta Costituzionale per avere una legittimazione popolare attraverso il referendum piuttosto che fare una buona riforma della Costituzione. Quindi anteponeva il suo obiettivo, il suo interesse politico personale a quello del Paese. Un Presidente del Consiglio che ha diviso il Paese sulle regole del gioco democratico, non solo il Paese, è il Segretario del Partito Democratico che ha diviso anche il proprio partito su questo appuntamento elettorale. Quindi credo che la parentesi renziana ormai sia conclusa. Oggi si apre uno scenario nuovo, credo ci debbano essere scelte di responsabilità nell'interesse del Paese, però penso anche che il centro-destra da oggi abbia di fronte a sé opportunità concrete per tornare al governo del Paese. Questo nella misura in cui si saprà trovare le ragioni della sintesi, come noi abbiamo fatto in Toscana in questi anni, infatti i risultati non sono mancati. Penso alle vittorie di Arezzo e Petrasanti due anni fa, di Grosseto, Betello, Montevarchi, Cascina della primavera scorsa. Il centro-destra unito con candidature spendibili è la vera alternativa di governo vincente al centro-sinistra e può battere, così come in Toscana l'abbiamo dimostrato, anche il Movimento 5 Stelle. Quindi grande responsabilità sia nel costruire una coalizione di centro-destra sia anche per fare ciò che va fatto da ora alle elezioni politiche. che io spero ci siano prima possibile, è evidente a tutti, però per le scelte scellerate di Renzi che ha fatto una legge elettorale votata a colpi di fiducia, pessima l'Italicum, dove si dava per scontato il Senato dovesse sparire. Bene, il Senato per una riforma sbagliata di Renzi vociata dagli italiani non sparirà e quindi credo che ci sia la necessità di modificare la legge elettorale in tempi rapidissimi e poi permettere agli italiani di tornare a scegliere. Questo anche perché, e chiudo, è giusto 5 anni. È dal novembre 2011 che a Palazzo Chigi siedono persone che non hanno avuto alcun avallo elettorale. Nel novembre 2011 Berlusconi fu defenestrato da una sorta di complotto, finalizzato proprio a estrometterlo dal governo del paese, nonostante avesse vinto le elezioni in maniera assolutamente ampia e legittima. Da allora gli italiani non hanno avuto la possibilità di scegliersi chi li deve governare. Credo che nel voto di ieri ci sia anche questo, ci sia anche la riaffermazione da parte di tanti italiani della volontà di essere popolo sovrano e quindi attraverso le elezioni politiche di tornare a scegliere chi li dovrà governare da Palazzo Chigi. Tornando invece al locale, invece in Toscana, come in Emilia e da qualche altra parte, invece il sì ha prevalso in qualche modo. Come si può lavorare su questo? La Toscana è la casa di Renzi, quindi è ovvio, qui se la giocava in casa. Io ho fatto tante campagne elettorali, mai visto una campagna elettorale così spregiudicata, con un uso di risorse, francamente sarebbe interessante sapere dove hanno trovato tutte le risorse finanziarie per la campagna elettorale che hanno fatto. Una mobilitazione militare di amministratori, dirigenti di partito, associazioni di categoria, ordini professionali, insomma hanno spazzato letteralmente in tutti gli angolini e nonostante questo qui in Toscana, da sempre una terra molto generosa per il partito democratico e poi appunto la terra madre di Renzi e del renzismo, hanno vinto di una spanna e però il dato che emerge è che intere zone della Toscana, così come registrato già nelle amministrative 2016 e 2015, stanno cambiando di segno, stanno abbandonando il partito democratico, nelle province della costa il sì ha perso, se come dire si parte dall'assunto che il sì equivale al PD, che non è esattamente così, ma insomma certamente è un elemento di riflessione e anche importanti città, comuni, capoluogo di provincia hanno cambiato segno, insomma il noi è prevalso, è prevalso a Pisa, è prevalso anche in dei comuni che andranno al voto nella prossima primavera, penso a Carrara e a Lucca. Quindi le prospettive sono prospettive assolutamente interessanti, io credo che stanotte sia successo qualcosa di storico, insomma il sistema di potere del Partito Democratico che noi qui in Toscana abbiamo conosciuto bene, insomma si è chiuso un capitolo, un capitolo importante, perché Renzi aveva ereditato il sistema di potere implementandolo da par suo. Con la sconfietta di Renzi si apre, come dire, un scenario completamente nuovo, sia nel Partito Democratico, sia negli equilibri istituzionali della Toscana e quindi siamo veramente alla vigila di una stagione politica nuova anche per la Toscana.